Buongiorno da Milano. Il 6 ottobre, insieme ad altre sindaci e sindache, parteciperò a Ginevra al mio forum organizzato dalle Nazioni Unite e porterò l'esperienza della mia città per parlare di sostenibilità e di equità sociale. Tra l'altro ho l'onore di presiedere come sindaco di Milano una task force creata da C40, l'organizzazione che raduna le grandi città del mondo e che mira a dettare un'agenda per un recovery giusto e verde. Relativamente a Milano racconterò del nostro progetto di quello che stiamo facendo, racconterò di come stiamo rafforzando il trasporto pubblico e lo sharing di varie forme di veicoli, racconterò del nostro progetto di nuovo già avviato che porterà a piantare 3 milioni di alberi a livello di città metropolitana in una dozzina d'anni e poi di quello che stiamo facendo per aumentare l'offerta di case, di appartamenti a prezzi corretti, a prezzi equi e poi tanto altro, ma sempre all'interno di questa idea di vivere la città. Oggi la gente vuole stare nelle città, solo che le vuole diverse, più vivibili, e allora Milano si sta attrezzando. Per esempio un ultimo progetto di cui parlerò si chiama La città in 15 minuti e cioè nell'ambito della valorizzazione dei vari quartieri l'idea che in 15 minuti a piedi o in bicicletta puoi raggiungere i servizi essenziali per te. Questa è l'idea della Milano del futuro. Grazie 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 Grazie